Con questo video andremo a trattare la compilazione della sezione titoli generali per la mobilità docenti nel trasferimento per la scuola secondaria di secondo grado. Andiamo alla voce inserisci la domanda del trasferimento per la scuola secondaria e facendo inserisci andremo a finire in una pagina dove si compilano le sezioni della domanda di mobilità. Scegliamo proprio la sezione titoli generali e vedremo che sarà possibile compilare dal numero 11 fino al numero 18 di sezioni per i titoli disponibili per il docente. Il docente che ha superato un pubblico concorso alla casella numero 11 dovrà rispondere sì alla domanda che possiede un pubblico concorso ordinario per esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza oppure a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza. Nella casella numero 12 ci sono il numero di diplomi di specializzazione conseguiti post laurea. Questi i diplomi di specializzazione sono diplomi pluriennali per cui quei diplomi pluriennali che hanno almeno 3000 ore di svolgimento e 120 cfu dunque almeno biennali possono essere inseriti nella casella 12 nel punto 12. Nel punto 13 ci sono il numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo dunque sono diplomi universitari. Nel numero 14 il numero dei corsi di perfezionamento o master di durata non inferiore a un anno. Sono i corsi di perfezionamento o master pari a 1500 ore e 60 cfu con esame finale. Il numero 15 c'è il numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo attuale necessario per l'accesso al ruolo in buona sostanza sono i diplomi di laurea. I diplomi di laurea che è una doppia laurea oltre a quella che è servita che è d'accesso alla classe di concorso del ruolo di appartenenza. Mentre nel numero 13 ci sono i diplomi universitari non dunque le lauree ma per esempio le lauree triennali laddove il titolo di accesso sia il semplice diploma per esempio. Nel numero 16 c'è il conseguimento di un dottorato di ricerca per cui se il docente ha conseguito un dottorato di ricerca deve rispondere sì a tale domanda. Nel numero 17 c'è il numero di partecipazioni agli esami di stato. Attenzione qui si parla degli esami di stato riformati cioè quelli della riforma Berlinguer ovvero sia sono tre anni scolastici in cui si è partecipato a questi esami sono il 1998-99, il 1999-2000 e il 2000-2001. Chi ha partecipato come commissario interno oppure come commissario esterno o come presidente a uno di questi esami di stato di questi tre anni può inserire e qui il numero di anni che ha partecipato a questi esami. Personalmente per esempio ho partecipato due volte inserisco il numero 2. Poi al numero 18 ecco questa è una novità degli ultimi anni ci sono i corsi di perfezionamento CLIL ovvero sia la certificazione livello C1 con esame finale oppure e dunque con la certificazione con un dato esame finale oppure solo col corso di frequenza senza esame finale. Una volta inseriti questi abbiamo finito la compilazione dei titoli generali. Spero che questo video sia stato utile ai nostri lettori vi consiglio di continuare a seguirci nel nostro sito www.tecnica.scola.it nella nostra pagina youtube dove faremo altri video sulla mobilità e se volete potete porre anche delle domande specifiche a cui vi sarà data risposta. Vi auguriamo una buona Pasqua e un saluto a tutti i nostri lettori. Grazie. 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 Grazie.